Il soprano per eccellenza era Maria Callas, ma a causa di problemi di salute, negli ultimi periodi della sua vita, interpretò tuori da mezzo soprano. Questa, nella lirica, generalmente non accade, ma la Callas non si smentì nella sua grandezza. Stasera Lucia Ostunio, un bel applauso per lei, interpreterà alcuni brani che ricordano l'ultimo periodo artistico della Callas. Stasera Lucia Ostunio, un bel applauso per lei, interpreterà alcuni compagni di Grazie a tutti 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 Signor mezzo Grazie a tutti Grazie a tutti